La Corte di Assise di Appello di Bari ha confermato, riducendo in parte le pene, le nove condanne inflitte nei confronti dei pregiudicati del clan Conte e Cipriano di Bitonto, imputati per i quattro agguati mafiosi, nell'ultimo dei quali, all'alba del 30 dicembre 2017, fu uccisa per errore l'84enne Anna Rosa Tarantino. I giudici hanno confermato la condanna a vent'anni di reclusione per il Bosto Menico Conte, ritenuto mandante del delitto, per Cosimo Liso e per Alessandro Delia. Ridotte le pene nei confronti degli altri sei imputati, il capo clan del gruppo Cipriano, Francesco Colasuonno, Rocco Omena da sei a quattro anni, Benito Ruggero da sei anni e otto mesi a quattro anni e sei mesi, Michele Rizzo da tre anni e quattro mesi a due anni e per i collaboratori di giustizia Michele Sabba e Rocco Papaleo, esecutori materiali dell'omicidio tarantino da quattordici anni a tredici anni e otto mesi di reclusione per l'esclusione dell'aggravante mafiosa. I giudici hanno confermato anche le condanne a risarcimento danni per oltre 66 mila euro nei confronti delle costituiti e parti civili, i familiari della vittima, il comune di Bitonto e l'associazione antiracket. Stando alle indagini di polizia e carabinieri coordinate dai PM della DDA di Bari, Ettore Cardinali e Marco D'Agostino, all'origine dello scontro c'era la gestione delle piazze di spaccio. Quella mattina la signora Anna Rosa finì per errore sulla traiettoria dei 17 colpi di pistole esplosi nei vicoli del centro storico di Bitonto, vittima innocente della guerra in atto tra i due clan rivali della città. La mattinata di fuoco in cui furono esplosi complessivamente più di 50 colpi di pistole in quartieri diversi iniziò con il primo agguato da parte di Cosimo Liso del clan Conte. Ci fu poi l'immediata risposta con due spedizioni punitive da parte di Francesco Colasuon, Benito Ruggero e Rocco Mena del clan Cipriano. Poi la reazione con il boss Domenico Conte che diede l'ordine di uccidere, Alessandro Delia che portò il messaggio e due uomini con i volti coperti, Michele Sabba e Rocco Papaleo che inseguendo lo spacciatore Giuseppe Casa di Bari, anche lui adesso collaboratore di giustizia, uccisero per sbaglio la signora Tarantino. Nel processo sono contestate anche le minacce alla famiglia Casa di Bari da parte di Ruggero e Rizzo.